Nel caso del coronavirus invece è nuovo, per cui il sistema immunitario deve avere la possibilità di produrre anticorpi. Ma al di là di questo, la sintomatologia in realtà è sovrapponibile, il coronavirus alla fine è simil-influenzale. Abbiamo detto prima, può avere dei sintomi molto lievi come raffreddore, tosse, febbre che si riscontrano anche nell'influenza stagionale. Nei casi più grave si possono arrivare ad avere delle difficoltà respiratorie, una sindrome respiratoria acuta grave, polmoniti, anche insufficienza renale e decesso. Ma in realtà sono delle complicanze che si possono riscontrare anche con l'influenza stagionale. Infatti, se non erro, l'influenza stagionale, io mi sono guardato un po' di numeri da profano, fa molti morti, ogni anno 300-400 morti. Già dall'inizio dell'anno, se non erro, sono 40-50 morti di influenza normale stagionale. E ovviamente, come abbiamo visto per il coronavirus, sono morti che capitano non per le persone sane, ma più per persone che hanno già o diverse patologie, oppure magari sono già avanti con l'età. Quindi dopo i 70 anni, è giusto questo? Sì, esatto. Allora, per quanto riguarda i dati dell'influenza stagionale, se noi andiamo a vedere il report epidemiologico di Influnet, che è a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, la stagione 2018-2019 ha visto 8 milioni di italiani contagiati dal virus dell'influenza. Sempre dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che circa 7.000-8.000 persone muoiono a causa di complicanze che sono una conseguenza di questo virus influenzale, ma sono tutte persone cardiopatiche, con un sistema immunitario depresso, quindi comunque con delle patologie pregresse. Ma di queste, sempre un dato dell'Istituto Superiore di Sanità, tra i 200 e i 300 persone muoiono a causa diretta del virus influenzale. Per quanto riguarda invece il coronavirus, noi attualmente non abbiamo nessuna certezza che i decessi che si sono avuti a causa del coronavirus siano decessi diretti per l'azione del virus, ma che siano una conseguenza di patologie pregresse, per cui con l'infezione ha peggiorato una situazione che ha poi condotto al decesso di queste persone. Questa è un'affermazione importante. Quindi con i dati a nostra disposizione, tra quelli che mi ha detto riguardo l'influenza in generale, tutti quelli che si sono ammalati 2018-2019, e quello che realmente non si sa e che non è nemmeno certo, perché i numeri sono ristretti e non è certo che ci sono state delle morti dirette da questo virus, quindi coronavirus, forse si può parlare di un allarme esagerato? Sì, si può parlare di un allarme esagerato. Anche i numeri, quando è scoppiato, ci sono stati tutti quei casi di contagio nel nord, nella zona rossa, era intorno al 18 febbraio, io non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, perché vedevo titoli sul giornale, vedevo telegiornali, anche queste scene che mi sembrava veramente scene di film, ma dai dati che avevo letto invece sul contagio in Cina, c'erano dei numeri che non mi rendevano chiara la situazione, Leonardo, per cui io mi sono andata a guardare i dati a livello mondiale al giorno del 22 febbraio. All'epoca i contagi a livello mondiale erano poco più di 77 mila persone. Contagi. Contagi. Di cui un 2300 decessi, che paragonati ai dati che abbiamo detto prima, ai numeri che abbiamo detto prima, per l'influenza stagionale, sono molto molto ridotti. Per cui non capisco questo eccessivo allarmismo. Vero è, proprio perché non si hanno sviluppati gli anticorpi, una cosa che magari si deve tenere in controllo sia il contagio per evitare magari che troppe persone possano necessitare di cure mediche, quindi magari affollare e sovraccaricare le strutture sanitarie che potrebbero trovarsi in situazioni che non riescono poi, potrebbero non gestire. Ma al di là di questo, comunque io ancora non mi spiego le misure prese e questo grande allarmismo. Perché allora mi domando anche, è vero si ha questa paura che possa non essere gestito bene la quantità di persone eventualmente che necessitano di cure ospedaliere. Ma allora, con i dati che abbiamo dell'influenza stagionale, le persone che hanno complicanze, le persone che muoiono per complicanze di influenza stagionale, muoiono a casa? Senza rivolgersi a strutture ospedaliere? Questa è una domanda che mi sto ponendo. Quindi qual è la differenza? Non capisco.